Una realtà comunale vittima di una paralisi economica troppo spesso fondata sulla furbata incentivata. Così, in un comunicato durissimo, la segreteria regionale della CISAS, Confederazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi, a proposito del tracollo della Ipervigile, storica azienda nocerina nel settore della vigilanza privata, che chiuderà definitivamente i battenti entro il 10 gennaio 2014. Oggi nuovo sit-in dinanzi alla sala operativa della società in via Michele Riccio, a nocere inferiore, ma soprattutto domani appuntamento importante per le maestranze con ricadute che potrebbero essere non positive per i pendolari. I dipendenti, a partire dalle 7.30, daranno infatti vita ad un sit-in a ridosso del casello autostradale della 3. Questa mattina siamo andati a protestare sotto la casa della signora Scarpati Assunta, precedentemente dal signor De Santis e precedentemente ancora dal signor De Santis. Tutti i giorni facciamo questo perché protestiamo, perché ancora una volta l'azienda non si pronuncia a tirar fuori i soldi che ci deve, di cui ripetiamo sempre, 13esima stipendio di novembre, ormai siamo pure a dicembre, loro negano sempre che non hanno soldi. Noi ci avevano promesso che entro il 24 ci davano una disponibilità ma non si sono presentati nessuno. Sono persone diciamo che sgorbutiche, irrascibili, non vogliono darci niente, non ci vogliono liquidare, sono tra virgolette arroganti. Per domani abbiamo organizzato una manifestazione con 10.000 volantini, sarebbero questi qua, perché noi chiediamo anche le istituzioni, il sindaco che non ancora si è pronunciato, il presidente della provincia, gli onorevoli che sono venuti qui a Nocera a prendersi i voti. Io stamattina ho letto su una pagina di internet che l'onorevole Cirielli stava prendendo delle misure per quanto riguarda questa società, però io fino adesso vedo solo promesse. Comunque posso dire che abbiamo fatto solo brutte feste con un'azienda che comunque alla fine aveva tutti i mezzi per farci lavorare e ci ha mandato in mezzo alla strada. Stiamo sopportando tutto questo perché noi siamo da tanti anni in questa azienda e abbiamo il diritto alla dignità di un uomo perché senza lavoro si muore. Io chiedo a tutte le autorità che prendano questa cosa sul serio perché giustamente la legge è legge, chi deve pagare paga.